19 ore 19 26 del 5 maggio questa mattina ho detto mi son permesso di fare una previsione riguardo alla partita bilongo 4 e foresto 1 bing longo 2 o resto 0 abbiamo vinto cazzo siamo fuori dai playoff andiamo direttamente alla terza finale lo faccio anche per te coglione questo filmato e domani